... Frane smottamenti in Basilicata dopo una giornata di pioggia battente e problemi maggiori nel Materano. Ben ritrovati sulla nuova TV, in apertura parliamo del maltempo. Dopo le abbondanti piogge di ieri migliorano le condizioni sulla nostra regione, ma sono notevoli anche oggi i disagi alla circolazione, soprattutto tra Matera e provincia. Sentiamo. Dopo un paio di settimane caratterizzate da temperature primaverili e tempo stabile, ieri una nuova ondata di maltempo si è battuta sulla Basilicata. Le incessanti piogge che dalla notte di giovedì hanno interessato l'intera regione hanno causato diversi disagi. La situazione più difficile tra Matera e provincia, dove nella giornata di ieri sono stati circa 40 gli interventi dei vigili del fuoco. Nella città dei sassi traffico in tilt con numerosi automobilisti bloccati a causa degli allagamenti nella zona dell'ex stabilimento Barilla, in via Manzoni e in via Dante. La situazione è lentamente tornata alla normalità nella tarda serata di ieri, con l'indebolirsi delle precipitazioni. Disagi anche alla viabilità provinciale, a causa di movimenti franosi sulla via Appia, tra Grottole e Grassano, sulla Fondovalle dell'Agri e sulla SS7. Critica la situazione a San Chirico-Raparo, dove smottamenti ed allagamenti hanno reso impraticabile la strada provinciale 7. Più tranquilla la situazione è Potentino. Le abbondanti piogge hanno allagato alcuni scantinati a Pignola e Vaglio ed innalzato il livello del fiume Basento. Anche a Potenza strade allagate in alcuni tratti, ma per fortuna con pochi disagi alla circolazione. Nel vultro emelfese, invece, a farla da padrone è stata la nebbia. Le previsioni per il weekend parlano di un leggero miglioramento, accompagnato però da un lento ed ulteriore calo delle temperature.